do un colpo alla porta con il fondo del mio remo e grido oi di casa io a stracompugnare me lo tengo lungo la manica senza farmi notare troppo perfetto di lì a un minuto probabilmente sentite un pesante catenaccio scorrere sull'interno della porta e questa portone che una volta mosso e una volta che ne vedete lo spessore si dimostra effettivamente una porta di notevole pesantezza ecco questa porta viene aperta da una donna sulla quarantina probabilmente vedete che ha i capelli castani rossicci lunghi fino a dietro le spalle probabilmente fino alle scapole o giù di lì non è alta ma sicuramente molto abbondante molto formosa la faccia è tonda e gioviale vi guarda dalla porta aperta per una decina di centimetri e più serrata con una catenella per evitare che venga aperta di più vi guarda e dice chi è che bussa a questa casa buongiorno madonna siamo qui per ordine di del conte massimo quel vecchio stroso e apro la pergamena e gliela mostro diciamo davanti così che lei la possa leggere senza avvicinarmi troppo sì siete qui per le bestie mi avevano detto che avrebbe mandato qualcuno no vedi che guarda un attimo la lettera e dopo di che si fa indietro e la porta si richiude viene sganciato probabilmente il fermo della catena e vedete la porta riaprirsi la donna si è fatta indietro in quella che è la stanza d'ingresso la stanza principale dell'atrio di questa vecchia villa e l'uomo che sta aprendo la porta vedi che è un omaccione un ragazzotto anche abbastanza giovane più giovane anche di Giano probabilmente però bello nerboruto piantato ha un'armatura di cuoio addosso un coltellaccio infoderato sul fianco e apre la porta e vi guarda dice fatevi avanti ma mostratemi bene quelle lettere e gliela passo io sono io sono Rocco sono qui per ordine del del conte mi dice di tenere in ordine le cose qui quindi vedete di non fare casino va bene staremo in ordine come tutto il resto noi siamo venuti qui per appunto occuparci di questo problema di bestie che avete nella tenuta di caccia tu ne sei qualcosa? io io non ho problemi con le bestie io devo tenere in ordine la casa ho capito e comunque parliamo da dentro e vedi che a quel punto Alia lo guarda e gli fa ok Rocco non ci sono problemi falli entrare e vi facendo di seguirla seguo Rocco resta lì chiude la porta e vedete che vi guarda sfilare con lo stesso sguardo un po' corruciato con cui ho visto entrare senza capirne poi troppo Alia vi fa strada lungo la i corridoi lì della villa sostanzialmente un paio di stanze risistemate a piano terra vengono sfilate quelle che probabilmente erano le stanze più grandi le stanze più belle perché a tutti gli effetti sono un po' troppo scomode da gestire con un con un personale ridotto difficili da scaldare eccetera eccetera quindi sfilate queste belle stanze con gli affreschi eccetera eccetera vi portate in quella che era probabilmente la zona più della servitù in cui c'è un piccolo salotto adesso allestito con dei tavoli da taverna vedete che sui tavoli c'è un uomo già seduto sulla trentina e lei vi fa vi fa sedere su un altro tavolo ci sono delle piccole tovaglie probabilmente apparecchiato già per servire la cena tra un paio d'ore e vi fa accomodare il tavolo si siede lì con voi e fa bene 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 qui temevamo che le cose potessero andare storte per l'anno prossimo ma sicuramente il conte ha bene in mente i suoi interessi di caccia e vedete che facendo questo accenna tutta una serie di teste di vari animali che sono impagliate affisse sulle varie pareti della villa una bella bella collezione devo dire si bestie morte molto belle si bestie morte ho saputo che il suo il suo suo marito appunto si occupa di queste di queste cose di prendere le bestie e metterli dentro sa ha capito e no si si quelle cose lì si lo pagano bene ma le bestie vanno bene mangiate non messe sulle pareti molto d'accordo anch'io ma sono anche simpatici e a proposito di bestie voi intendete cenare questa sera perché io dovevo fare la cena e devo essere cristiano da sfamare ovvio ovvio perché voi siete cristiani vero ma certo ma ovvio certo perché c'è qualcuno che non è cristiano qui vedete che guarda il tizio che è seduto al tavolo da solo lei lo guarda con qualche dubbio in mente e poi fa no penso che siamo tra cristiani ma questa è la più alta voce del normale perché adesso io non so là in città ci sono tutte queste cose queste idee moderne eccetera ma insomma lo si sa che poi questi sono tempi bui e ci vuole e ci vuole la fede per star su comunque voi intendete cenare giusto sì abbiamo anche delle nostre provviste sui muli è lì che ti guarda quasi offesa ma siamo ben contenti di cenare con lei assaggiando le vostre primizie perfetto per il cibo dell'alloggio fanno due franche in tutto noi abbiamo qualche moni per questa missione però no non ci ha dato soldi in anticipo quindi dobbiamo mettere avanti noi esatto non è terzi vabbè eh ci checciamo i due fiorini ma due fiorini Cosimo anticipo due fiorini eh cosa anticipo io no forse non ho penso di non aver capito bene sono un po' due orecchie queste cose due a testa o due in tutto due a testa perché uno per la cena e uno per l'alloggio non c'è niente da anticipare ognuno si paga il suo e tutti amici come prima sbuffo tirando fuori un paio di fiorini certo che però ce l'abbiamo una tenda eh vabbè facciamoci due benedetti fiorini signori non c'era tutta non c'era tutta questa fretta di pagare in anticipo però se così avete premura è un piacere meglio meglio via il dente via il dolore cara che si mangia stasera abbiamo su della ribollita di carne e poi del pane non è proprio fresco è di ieri ma è comunque un buon pane madonna meglio della mensa delle guardie cittadine poco ma sicuro e non è che avresti un po' di creme di creme creme perché no vabbè faremo senza e non serviamo pesce qui ma 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 mica un pesce vabbè vabbè non importa non importa grazie lo stesso ti guarda con la faccia di una che non ha capito ma poi sta lì a ridire fa no no ma il pesce no no non c'è di questa stagione è colpa mia che ho chiesto ok vedete che va di là nella nella sala che è quella della cucina e vi lascia lì sostanzialmente visto che non ha molto altro da fare sia faccenda di là dopo un po' vedete che attraversa la stanza un uomo evidentemente corrotto quindi dalla pelle palli dalle vene nere che gli attraversano le mani il volto sta portando sostanzialmente una catasta di legna per per il fuoco lo vedete che è magro piccolo cioè rispetto a lei che nonostante l'età rappresenta una florida donna ricca vitale vedete che lui è proprio smunto è quasi inesistente molto molto quasi emaciato rachitico con queste braccia gambe sottili però evidentemente comunque è nervuruto visto che porta una catasta di legno abbastanza ingombrante quando si fa nella stanza lo fa con quasi timidezza nel senso che vi guarda fa in modo che innanzitutto voi lo vediate e poi entra e mette giù quasi avesse paura di spaventare qualcuno o di offendere qualcuno e poi in silenzio si riallontana dalla sala si puoi ricordartelo sostanzialmente ce l'aveva detto ecco questo era il mio dubbio non mi ricordavo se ce l'avesse detto il conte si vi aveva accennato al fatto che ci fosse un corrotto e vi aveva detto anche il nome quindi in base a chi a chi vuole ricordarselo ve lo dico se volete se pensate di averci fatto caso io non mi ricordo assolutamente di averci fatto caso comunque lui si chiama Riccardo fate voi se i vostri personaggi ci hanno badato o meno quindi io non me lo ricordavo assolutamente mi facciamo fin io non me lo ricordavo però il mio PG penso di sì beh io sì perché quando sento corrotti essendo una guardia cittadina insomma ci devo tendere un po' le orecchie sì sì comunque ha detto che era Riccardo che è l'attuale compagno di Alia e che era il conciatore il corrotto tessidermista esattamente perché da solo era troppo inquietante troppo inquietante poteva fare il cake designer no doveva fare il tessidermista esatto come cake designer non penso avrebbe venduto molte torte si sa mai non si può mai sapere nobiltà milanese nuove mode forse nell'impero d'Ungheria ok avete import export di fronte a voi un paio d'ore probabilmente prima che venga servita la cena se volete chiedere qualcosa fare qualcosa nel frattempo avete un bel po' di io vorrei fare un giro del luogo invece vorrei andare a cercare qualcuno che sa di questi attacchi che ci può dire dare qualche informazione in più del tipo attacca riserva prede preferenziali posti in cui gli piace andare cioè tutte quelle informazioni di prima mano su questi attacchi di questa fiera ok anche io andrei volentieri per questa cosa come? no invece esco e mi faccio un giro attorno alle mura e voglio vedere l'ambiente circostante com'è ok idem quindi Federico e Giano vanno a farsi una passeggiata considerate che il brolo è grande chilometri potrebbe essere tipo una 4-5 chilometri di quadrato quindi è una bella passeggiata insomma voglio dire nelle immediate vicinanze della casa giusto per capire che genere di strutture ci sono gli ingressi e quant'altro mi spiego a un centinaio di metri di distanza diciamo volete fare il perimetro esterno oppure il lato interno non ho capito voglio stare intorno alla casa per vedere esattamente cosa c'è attorno che genere di struttura potrebbe esserci come via di fuga e quant'altro ok quindi sull'esterno della casa insomma la parte perimetrale no invece mi addentro proprio dentro il coso per un centinaio di metri però comunque si ok allora beh nell'ordine prima in un momento si è chiaro che lo faccio con le armi spianate perché non si sa mai ok allora Giano sostanzialmente la casa è come ti ho detto un corpo a due livelli col corpo centrale più alto e le due ali laterali quindi un po' più piccole comunque a due piani e il fronte della casa sarà tipo una trentina di metri e poi lo spessore della casa è quello di due stanze e dalle pareti di testa e di coda di questa struttura partono i due muri che delimitano il giardino quindi il giardino della casa fa conto che sia un quadrato 30x30 metri attaccato a questo quadrato poi partono i muri che invece delimitano il brolo di caccia che invece è un quadrato molto più grande e vedi questi muri dritti alti tra i 3 e i 5 metri che filano dritti lungo la campagna ogni tanto schivando magari del terreno non particolarmente stabile o facendo ogni tanto qualche flessione dovuta ai cedimenti delle fondamenta però fondamentalmente dritti per quello che li puoi vedere quindi sull'esterno non ci sono tante altre non ci sono proprio strutture altre che non quelle proprie della villa ok per il resto rimango all'esterno cercando un punto magari leggermente sopraelevato beh in realtà non c'è niente di come dire di elevato tranne la casa nel senso che forse da una delle finestre del piano superiore della casa potresti guardare uno dei due lati quindi o quello della strada oppure quello del giardino se no ti accontenti di cercare un posto sul probabilmente sull'angolo della casa se vuoi guardare verso la strada ad esempio sì una cosa più in alto ok se no puoi arrampicarti direttamente sul muro del giardino e quindi ti metti sul muro del giardino e da lì guardi il lato che preferisci della strada ecco la storia giusta di guardia tra virgolette ok perfetto te ne appollai lì di guardia ottimo poi Federico tu vai a guardare la parte interna allora sull'interno esci e vedi che c'è Rocco che sta spaccando della legna nel frattempo il ragazzotto che aveva accolti all'ingresso è lì fuori che sta facendo dei lavori sistemando e probabilmente riordinando cose e c'è il giardino prima di tutto l'ex giardino della villa quindi vedi una cosa che tuttora è stata riportata a orto quindi tutta quanta terra coltivata ci sono i resti di quelle che erano delle fontane degli abbellimenti degli archi che a tuttora sono assolutamente inutilizzati e tutto è rivisto in maniera molto più pragmatica per l'utilizzo e alla fine del giardino c'è un portone in ferro che dà sul brollo da caccia quindi sul quadrato molto più grande che è quello che viene lasciato a come dire inselvatichire ok mi avvicino al portone controllo che sia chiuso aperto praticamente beh vedi che è chiuso nel senso che non è le due ante non sono scostate però non è chiuso a chiave nel senso c'è un chiavistello che basta semplicemente girare e poi puoi aprire le due ante ok no ci butto semplicemente un'occhiata dentro ma stanno dietro il cancello ok ottimo e nel frattempo quelli che sono dentro la villa e tentano di racimolare informazioni ditemi come fate cioè da chi andate allora io intanto vado a chiedere ad Alia a chi posso chiedere nel senso voglio avere delle informazioni su questi attacchi chi ha trovato l'ultima gli animali morti chi si occupa di andare in giro per controllare che tutto vada bene ok beh Alia ti dice che è lei che va ogni tanto a fare un giro nel brolo perché vedi che comunque si vanta sostanzialmente di essere l'uomo di casa Riccardo è troppo esile troppo stanco e si stanca facilmente eccetera eccetera quindi è lei che sostanzialmente ogni tanto va nel brolo mette le trappole per conigli e poi ne torna indietro per fare sostanzialmente la cena quando hanno degli avventori o comunque prende dal brolo quel che le serve per portare avanti la sussistenza della villa e ti dice che ha trovato degli animali morti ma morti malamente nel senso che ad esempio una tana di conigli interamente straziati quindi tipo 5-6 conigli tutti fatti a pezzi nel giro di una ventina di metri e nessuno di questi aveva segni del fatto di essere stato mangiato quindi proprio le stragi ti dice che fanno le faine o le volpi rabbiose quando entrano in un pollaio che uccidono tutto fino a che più nulla si muove insomma qualcosa che non ha a che fare con l'intenzione di sfamarsi e ti dice che ha visto anche comunque animali più grossi che non i conigli perché ha trovato anche un tasso che comunque insomma il tasso è un predatore abbastanza fiero però sembrava spezzato in due senza troppa fatica e ti dice che da quel che ne può capire lei secondo lei deve essere un qualche tipo di cinghiale perché l'impronta della zampa è quello che ha trovato l'intorno però la vedi seriamente preoccupata quando ti dice questo perché se fosse questo sarebbe veramente una bestia preoccupante e l'ultima cosa che ha trovato l'ultimo scenario di distruzione e morte che ha trovato se mi può spiegare dove si trova per domani cominciare le ricerche dall'ultimo punto dell'ultimo attacco beh ora in realtà io non sono poi andata molto nel brolo da quando è successo questo perché capisce eh sì è importante tenere il brolo ma non ci tengo a finire nelle zanne di qualcosa diventare cibo di quello che di solito è la mia cacciagione quindi non ho notizie recenti quello che vi sto dicendo è di una settimana fa poi il tempo di riferire al nostro conte e lui ha provveduto portandoci voi che detta tra di noi dovreste essere la soluzione ma ne sarete in grado grazie per la fiducia dimostrata Madonna come sempre vedo che anche anche tra bravi cristiani c'è qualcuno che giudica solo sulle apparenze eh ma su via ma no ma è preoccupazione la mia non malafede ho capito solo perché sono un povero storpio e perché i miei compagni sembrano essere usciti dalla peggiore cloaca di Milano non possiamo essere in grado di cacciare questo cinghiale demoniaco si ha ragione monna ha ragione io ma sono sicura che se la vostra fede sarà forte come le vostre parole riuscirete e si rifà di nuovo il segno della croce sempre si ha rodato sempre si ha rodato e di far puglia qualcosa che non c'entra niente con la religione in un finto latino che lo capisci anche tu che è finto nonostante tu non sappia qual è il latino assolutamente no ecco va bene niente la lascio alla sua alla sua cucina e torno nella sala comune ok nel frattempo invece Cosimo visto che lui è andato a parlare con con la tizia io vado a parlare con Riccardo eh Riccardo devi ritrovarlo prima perché Riccardo non si fa cioè nel senso vedi che non ha è molto timido quando attraversa la sala lo fa come per non farsi vedere e e si fa vedere molto poco nel senso che ha portato la legna dopodiché non lo vedi più per un bel po' a meno che tu non vada in cerca nella villa vedi che non sembra non apprezzare gli ambienti comuni beh provo a cercarlo ok quindi vai in giro nella villa oppure chiedi lì cioè com'è che no no vado in giro nella villa l'ho pagato ok posso girare ok cominci a vagare per la per la villa ma ci sono un bel po' di porte serrate nel senso porte che vedi che non vengono aperte da un bel po' quindi anche se la villa è grande a tutti gli effetti gli ambienti utilizzati riesci a identificarli facilmente ci sono un paio di distanze lì a livello terra che sono quelle comuni e poi un paio di corridoi ti portano invece in un'altra zona e aperta una porta ti trovi davanti Riccardo che è lì intento a spoiare una piccola bestia su un tavolo vedi che è lì che sta grattando con un caltellaccio per lavorare in qualche modo sulla pelliccia non capisci se è un furetto se è una piccola faina cosa sia intorno sul tavolo vedi tutta una serie di coltellacci degni della tavola di un di un medico della peste sostanzialmente o di un ceruzzo e poi tutta una serie di contenitori in vetro e polverie liquidi anche questi che ricordano un po' i tavoli degli alchimisti oppure anche di altri guiscardi tuoi pari che sai che fanno strani intruglie e cose del genere e nel momento in cui entri vedi che gira lo sguardo terrorizzato sbarrando gli occhi e si ghiaccia sostanzialmente come tipo gli animali quando vengono colpiti dai fanali delle macchine che si bloccano Salve lei è Riccardo giusto? Facendo con la testa senza proferire parola Ma guardi stia tranquillo io non la mangio guardi addirittura lei non è il primo corrotto che vedo perché nel periodo un po' un po' buio della mia vita ne ho conosciuti un paio quando giravo con qualche carovana così insomma cioè non mi fa nessuna paura non mi fa neanche nessun problema lei Non ho dubbi non ho dubbi di questo E allora perché è così impaurito? Non ho paura E vi dica con quello sguardo sbarrato temi da sia la sua espressione naturale a questo punto Un po' stralunata Mi scusi Cosa sta facendo qui? Cioè beh Sì a cosa sta lavorando? Scuoio e di sangue Sì che cosa scuoio e di sangue? Beh non lo vede è una faina Sì qualcosa del del fantomatico mostro che pare scurra il terreno? Non c'è niente di fantomatico quella sì che è una bestia mirabile L'hai vista? ho visto ho visto le zampe ho visto le impronte dalle impronte si capiscono un sacco di cose è dalle zampe che si vede l'animale e ti mostra le zampe della bestia che ha in mano come se già quelle volessero dire tantissimo vedi che la gira mezza scuoiata mezza no e ti mostra le zampe sì 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 queste sono molto belle però mi dica più delle zampe no no queste non sono per niente belle vede vede e ti indica una zampa no questa è semplicemente una bestia qualsiasi le si venderà al mercato per pochi fiorini cose così queste non sono belle ma poi perché sto a parlare con lei perché potrei essere io e i miei compagni potremmo essere quelli che tu ama il tuo amato cinghiale no non lo so ancora io il tuo amato animale da impagliare sarebbe una bella cosa impagliarlo non è vero? sì sarebbe un lavoro mirabile memorabile sì sì sarebbe veramente significativo quindi se mi dessi qualche informazione in più magari da dalle sue zampe che tu dalle sue impronte che tu hai così attentamente analizzato beh sarebbe un passo avanti beh non è che posso in realtà dirvi molto di più di quello che potreste capire da voi è un animale massiccio lungo all'incirca un metro e ottanta pesa parecchio quasi quanto tra uomini si muove anche abbastanza veloce ma normalmente cammina di passo lento e hai idea del tipo di animale che potrebbe essere? beh ovvio ovvio che è un cinghiale ferale ma e ti guarda come per dire ma cosa ci fai te qua se non sai ste cose? e vedi che a quel punto mette giù la bestia che aveva in mano si gira per lo studio e a un certo punto vedi che ficcando le mani sotto un tavolo tira fuori il un piccolo cinghiale impagliato ma vedi che è proprio un cucciolo di cinghiale quindi sarà lungo tipo 50 centimetri vedi che lo prende Bogotone lo sbatte sulla tavola e fa vede questo è un cinghiale vede la zampa vede questo ecco lo faccia cinque volte più grande e con le mani indica una cosa che in realtà è molto più grande di cinque volte più grande perde un po' le questioni sui numeri effettivamente butta cose a caso e poi indica un'altezza che sarebbe quella di praticamente un un pony però un animale del genere un animale che non si vede molte volte in vita e quando le vedi di solito non è più l'occasione di rivederlo e hai idea di cosa potrebbe attirarlo mi sembra molto esperto io non sono un cacciatore quando arrivano a me di solito gli animali sono morti però si imparano un sacco di cose guardando le zampe degli animali le cose che mi hai già detto o qualcos'altro di interessante che può aiutare lei ad avere il nostro bellissimo cinghiale sul suo tavolo ti guarda come se avessi detto una cosa insulsa e ti dice ma le se ti sembra che io abbia una zampa da guardare qui no sono delle maledettissime impronte sono delle maledettissime impronte se mi portassero una zampa allora evidentemente potrei dirle di più non capite nulla non capiamo nulla certo è molto stancante questa conversazione lo sa per favore potrei ritornare nel mio silenzio grazie stia tranquillo non la disturberò più prendo e me ne vado poi si gira e fa no no ma può rimanere basta che sia in silenzio ah beh grazie però preferisco andare in sala ad aspettare la cena ah va bene va bene faccia come intende e vedi questo piccola figura esile e maciata che adesso era tutta l'orda del sangue di questo animale che stava lavorando che si rimette lì nel suo silenzio a lavorare con questi strani arnesi e tra me penso fa quella quella altra a tenersi un tizio del genere magari ha letto la veste e dici che c'è la sorpresina sotto va bene ragazzi io vi sento a scatti in una maniera terrificante non so se la cosa vale per qualcun altro ma poi si fatica a seguire le conversazioni sì anche per me Antonio ogni tanto fa non ripetemi il suono no non ho capito niente ok abbastanza da poter andare avanti comunque si 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 a massimo di chiediamo di ripetere ok dai io vi sento tutti bene in realtà quindi come direi in ingresso vi ho tutti molto bene e probabilmente poi in uscita che si incasina un po' ok comunque io poi torno nella sala parlo con Giasso vi dico quello che ho sentito anche io racconto a Cosimo quello che mi ha raccontato Alia c'è ancora il nostro misterioso altro ospite certo e vedete che oltretutto prima di sera quindi diciamo nel tempo in cui succedono questi eventi nella locanda arrivano altri cinque uomini vedete che arrivano abbastanza tardi quando in genere ci si aspetta che che i viandanti abbiano già trovato una sistemazione o al diaccio oppure abbiano trovato un alloggio hanno dei pesanti cappotti in pelle per proteggersi dall'umidità dalla pioggia e che non si tolgono nonostante siano entrati si siedono al tavolo e cominciano a bisbigliare a parlottare tra di loro guardano squadrano chiunque sia nella sala quindi voi e l'altro ospite poi riparlano tra di loro e nel momento in cui Federigo ritorna nella sala perché penso che prima o poi insomma si si beh è chiaro finito il sopralluogo quando li vedo arrivare da fuori si tu li vedi arrivare li vedi arrivare in gruppo e arrivano da da sud quindi arrivano da Milano sostanzialmente o comunque da direzione di Milano e comunque quando vedono entrare Federico vedi che si rigidiscono un po' ti guardano ti lanciano delle occhiate e poi bisbigliano tra di loro e continuano a parlottare prendono accordi con Alia velocemente per quello che è quello che c'è da pagare per la notte e dicono che partiranno presto il giorno dopo e e mangiamo lì si mangiamo lì per vedere se li riconosco posso fare un tiro per vedere se li riconosco se magari è gentaglia che ho buttato nella galera si fa un tiro di conoscenze comuni un tiro di intelligenza giusto per vedere cosa puoi ricordare 5 e comunque Alia si lamenta pesantemente perché sono arrivati tardi e quindi adesso dovrai improvvisare qualcosa ok no a te non ricordano nulla sostanzialmente non non hai ricordi di quelle facce di anche se come dire vedi che dal portamento potrebbero essere militari perché si non sono alla fin fine commercianti questo lo si capisce però non non riesci a inquadrarli a capire perché mai loro dovrebbero guardarti così sbiego o cose del genere io non ho mezz'idea ce l'ho sei ancora vestito da guardia punto di domanda prego non ho capito sei ancora vestito da guardia Federico è la mia armatura anche se mi è andato in ben servito adesso c'è un bel armature ok ok e il tizio misterioso come regisce all'arrivo di questi nuovi cinque figuri ma vedete che il tizio che è lì seduto al tavolo per la maggior parte è lì che sta scrivendo appunti in un taccuino ha un suo libretto che legge sfoglia e poi ha un calamaio e con quello è lì che scrive i suoi appunti poi ogni tanto tira fuori un altro piccolo libretto dal quale sembra leggere qualcosa è lì che sta praticamente facendo qualcosa tra i suoi appunti sta leggendo sta studiando sta riordinando qualcosa e non bada più di tanto gli altri nella sala vedete che è abbastanza pallido i capelli biondi lo inquadrano un po' come un fenotipo abbastanza nordico quindi o tedesco oppure comunque verso il nord est europeo aspettiamo la scena immagino Giano tu rientri poi si rientro dopo un po' senza farmi vedere degli uomini mentre propinquono diciamo e per il resto li tengo sott'occhio cercando magari di urigliare un po' forse dovessero andare a parlare tra loro spostandomi dal nostro tavolo ok beh fammi un tiro di furtività ridimi scusa ti ho perso fammi un tiro di furtività nel senso che probabilmente mi immagino che casualmente ti avvicinerai al tavolo per andare al camino o cose del genere quindi non è tanto percezione quanto più dissimulare questo tuo fatto che casualmente a volte ti avvicini vai col Benny Benny vai col Benny non abbiamo stato neanche un Benny in questa decisione un obolo scusate Benny Benny vai ritira insomma il minimo sin da casa ecco dai ok dammi un attimo hanno percezione di 10 ho sentito 12 più 2 solo ok ho sentito una gamba che si stacca per una spadata Giano vedi che nel momento in cui tu provi ad avvicinarti loro comunque tutto sommato si rigidiscono e vedi che fermano i discorsi oppure si parlano d'altro tipo ah si 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 certo il mercato il mercato di Venezia si ci sono si appunto ci sono stato mercato di Venezia e quindi vedi che molto goffamente o cambiano discorso palesemente oppure si zittiscono e ti guardano come per dire cosa c'entra questo riesci però a cogliere una una frase che era e se ci scoprissero ah e quell'altro stava dicendo no no non ti ottimo e facendo molto tranquillamente faccio finta di niente dopo qualche altro giro per gli altri spazi della locanda vicino anche a torno agli altri molto tranquillamente ok loro sanno che tu hai probabilmente carpito quella frase li vedi quasi più preoccupati di prima però poi uno tende a calmare un po' gli animi alla fine si rimettono anche un po' tranquilli e ricominciano a cenare a bere vedi che dopo un po' insomma si rilassano un po' dalla loro posizione prima di tutto molto tesa ok io un po' per il resto non mi muovo particolarmente in serata tengo la lama pronta vicino alla mano per esempio il 5 non è il massimo ottimo qualcuno ha qualcosa da fare questa notte? no diciamo che siamo al piano di sopra? sì ci sono delle camere al piano di sopra che però non sono singole ovviamente quindi venite messi a dormire a due a due quindi ditemi voi le camere io dormo con chi lo sa meno quindi io quasi quasi non dormo con Federico così paura eh? sì io dormo con Federico allora perfetto quindi gli altri due sono quelli con l'odore peggiore no tutt'altro perché appena appena diciamo si fa notte sì io faccio su intanto sveglio Giasso in silenzio e faccio sulle coperte in maniera tale che sembrino un un uomo diciamo che sta dormendo sì e dopo silenziosamente apro lentamente la porta mi guardo un attimo intorno per vedere se c'è gente non c'è nessuno e silenziosamente mi porto dietro Giasso e vado in camera di Doco e neganeggiano un po' in stile di gita scolastica è solo che questo rischia la morte fantastico io che dormivo non dormivo ero seduto su una parete vestito di tutto punto e quella della maestra apre la porta e invece io stavo dormendo però avevo il falco sul testire del letto era lui che doveva svegliarmi perché stavo dormendo nella grande fai con quasi totale oscurità figurati alle luce di candela li apro la porta no non sono l'unico che non riesce a riposare c'è brutta gente è stato dormendo così bene Federico perché siamo qua entrate silenzio e che dormendo faccio entrare richiudendo bene mollo una pedata a dormire Cosimo non è il miglior risveglio sì ma io che cosa succede? quei cinque stanno combinando qualcosa li ho sentiti no no è stato mi chiede ma mi varrebbe la pena potrebbe essere un intraccio per quello che siamo venuti a fare beh è il caso di tenere l'occhio tutto qui pensavo sì sì certo avete idea di dove dormono? no ma che cosa possono avere a che fare con il cinghiale o la bestia che siamo venuti a imparciare non sappiamo nemmeno se sia un cinghiale in effetti dovrebbe essere un cinghiale ferale secondo il conciatore eh ma sì bestia passerò una certa parte della nottata per un giro per l'edificio voglio vedere se riesco a capire dove sono e se sono effettivamente nella stanza o se sono usciti ah ok ho sicurezza di dormire tutti insieme facendo torno di guardia con me in giro nelle ombre per la stanza sapete che no 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 l'unica ombre che ti offro sono quelle di vita non ho male posso tornare a dormire posso tornare a dormire adesso sì sì vai vai dormi ok posso riprendere anch'io no tu no migliore dell'altra parte la mia idea è fare un giro effettivamente dell'edificio in notturna con molta circospezione usando il minimo di luce necessaria se ne serve se invece c'è qualche candela accesa già all'interno sfrutto quelle sì proprio modello gita scolastica esatto ok allora beh luci all'interno non ce ne sono e fatto il il corridoio diciamo che attraversa praticamente tutta quanta la lunghezza dell'edificio la tromba per farci un'idea insomma la tromba delle scale è corrisponde all'ingresso principale all'atrio all'incirca quindi è a metà edificio sale al primo piano e accede al corridoio il corridoio percorre tutto quanto l'edificio nella parte padronale da parte a parte e lì ci sono ricavate praticamente sei stanze tre per lato e due le occupate voi e probabilmente gli altri ospiti occupano le altre stanze alcune delle altre stanze che sono libere insomma e a parte questo non c'è altro nel senso che le scale ti portano giù quindi dimmi dove vuoi andare non ci sono come dire grandi chilometri da fare se vuoi limitarti a quest'area della villa se no dimmi dove vuoi andare in giro volevo vedere se nelle altre varie stanze relative agli ospiti si riusciano magari a sentire dato che immagino le porte non siano tutta questa perfezione se all'interno ci sono più persone dove potrebbero dormire i soggetti perfetto fammi un tiro di percezione uno cumulativo per i tuoi vari tentativi e uno di furtività per muoverti in giro nella stanza questa è percezione notevole e furtività ok ti sembra di comportarti abbastanza bene ti muovi con passo leggero sulle travi scricchiolanti senza dare adito a grande rumore e ti appoggi sulle varie porte concentrandoti nell'ascoltare quel che ne viene di là e le trovi tutte quante silenziose tranne una che evidentemente contiene più uomini quindi potrebbe essere tutti e cinque il gruppo che è arrivato in seconda battuta in tardo pomeriggio perché senti più di un pesante russare e poi probabilmente ci sono anche degli altri respiri pesanti di fondo fai fatica a contare quanti uomini ci sono ma sicuramente è una stanza affollata se nelle altre stanze c'è qualcuno potrebbe essere che comunque è una persona sola e con respiro abbastanza leggero pensi che sarebbe fatica diciamo sentirla effettivamente attraverso la porta quindi diciamo che ce ne sono una stanza con gente rumorosa e le altre stanze o vuote oppure con una persona abbastanza silenziosa l'abbiamo sentito Antonio sì allora abbiamo messo le ultime casi sì allora ricapitolando una stanza è abbastanza rumorosa quindi lì almeno due o tre persone ci sono dopodiché le altre stanze ti sembrano silenziose potrebbe essere che sono vuote potrebbe essere che c'è una due persone abbastanza silenziose con respiro leggero cerco di mettermi in un posto dove poter passare un'oretta mezza comoda stando seduto da non essere visto ma da poter sentire chiaramente se da quella stanza viene aperta una porta quella dove ci sono comunque almeno in tre a quattro beh non essere visto diciamo che hai il corridoio e il corridoio è tutto quanto in ombra quindi normalmente non sei visto se ti appoggia ad esempio all'angolo del corridoio dove ci sono le vostre stanze nel momento in cui viene girata una luce in quella direzione però non sei occultato dietro a nulla quindi ti puoi mettere lì e guardare nella quasi totale ombra nella penombra c'è un po' di luce che chiarore lunare che viene attraverso le finestre mi piazzo vicino alla nostra porta in maniera tale che se sento lo scattare di una serratura o qualcosa a limite l'apro e rientro ok quindi puoi mettere la porta socchiusa della vostra stanza ed eventualmente scivoli dentro yes ok no non succede niente nel tempo in cui tu ti apposti vabbè dopo un'oretta non letta e mezza dato che la giornata di domani sia prossima interessante mi metto anche a riposare ok all'interno ovviamente ovvio bene la mattina vi risvegliate tutti quanti riposati della notte chi più chi meno chi se l'è dormita alla grassa come Giazzo e Cosimo e chi invece ha proposto di fare i turni di guardia ha fatto il turno di guardia da solo e poi nessuno ha togliato il cambio come Federigo oppure Giano che si è appostato alla porta e poi comunque vabbè ha perso un'oretta ma poi ha recuperato con il resto spero ci sia un caffè in questa ambientazione no devono ancora scoprire le Americhe quindi niente caffè o meglio è meglio che non le scoprono le Americhe sì tutto sommato ok detto questo io direi che ci fermiamo cosa dite direi di sì come orario sì se vado a letto adesso ho giusto 4 ore e mezza da dormire bene quasi mezz'ora in più di necessario ottimo bene siamo arrivati alla fine ma non abbiamo neanche fatto la presentazione dei giocatori visto che forse magari prima o poi qualcuno ascolterà questa cosa è il caso che associamo anche dei nomi alle voci che dite quindi vabbè io ero il master e sono Antonio è stato un piacere mi sono divertito grazie a tutti nelle parti di Cosimo sono Marco e appunto sono Cosimo è stato un dispiacere però mi sono divertito ma non è vero cioè nel senso è stato un piacere è tardi Federigo io sono Frank e interpreto Federigo e ho la sfortuna di conoscere il buon Marco purtroppo ci vediamo fin troppo spesso e per concludere in Fabi abbiamo Fabi allora c'è prima il Fabio K diciamo il Fabio tecnico che cercherà di risolvere il loop del master in settimana se riusciamo e poi c'è Fabio Bottari direttamente dal gruppo Savage World Italia Fan e dalla Savagepedia e dal blog e da mille altre cose fatte insieme ai miei compagni di merende Antonio Rossetti e Riccardo Giannico infatti cioè qua ragazzi altro che abbiamo Fabio Bottari personaggi famosi della Savagepedia veramente non mi disperdico ok bene è stato un piacere quindi direi di chiudere qua salutiamo tutti ci aggiorniamo alla prossima e ci aggiorniamo alla prossima bene buona caccia ciao 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 buonanotte saluti a tutti buonanotte saluti a tutti